Di tutto fanno, qualunque casino, un tifo da stadio, però lo zio non esce, non si sa dove sia. E allora i genitori cosa faranno, secondo voi? Quando vi vedete che sono così è perché vi sto per dire una cosa oltraggiosa e della quale non sono per niente contento. In questa nuova recensione sui piccoli brividi parleremo della Casa del Terrore, la nuova serie dei piccoli brividi tornata alla ribalta nelle librerie e oggi abbiamo questo capitolo qui, il libro più spaventoso di sempre. Però ne ho già un altro pronto qua, che se vorrete vi porterò su questo canale. Prima però parliamo di questo perché c'è molto da dire. Allora, questo romanzo, questa storia ci parla di due gemelli, dodici anni l'uno, totale 24, i soliti dodici anni, insomma è un tema ricorrente nei piccoli brividi. I due gemelli che sono i gemelli Arnold, i nomi me li segno perché ci sono un po' di nomi dentro questo racconto, e questi gemelli stanno andando a passare un piccolo periodo, una piccola vacanza, dal loro zio che è disperso tra i monti. Fin qua sembra un po' la storia di Heidi, anche perché questo zio qua è abbastanza un recluso, abbastanza, non dico emarginato, però molto solitario, perché passa la sua esistenza da solo in questa casa sperduta tra i boschi, in mezzo, diciamo, nei pressi di una foresta che si chiama la foresta imprevedibile. Il racconto parte con i due gemelli in auto e i genitori che li stanno accompagnando dallo zio. Il bello è che i genitori parlano di questa foresta imprevedibile, però ne parlano come se fosse la cosa più normale del mondo. C'è il papà che dice, ah, andate in questo posto, in questa casa sperduta, vecchia di 500 anni, con dentro uno che non vediamo da millenni, uno zio, presunto zio, che manco avete visto di persona, l'avete visto quando eravate appena nati, quindi non lo ricorderete minimamente, e la casa è vecchissima, è sperduta, non c'è nessuno intorno, i telefoni non prendono nemmeno, si vedrà più tardi. Ah sì, e siete vicino a una foresta che si chiama imprevedibile, nome preoccupante, ma vabbè, si chiamerà così per qualche motivo ignoto, che decido di ignorare. Questo è quello che dicono i genitori, cioè diciamo, quello che si intuisce da questo discorso. Sono genitori che non danno molto peso a quello che vedono, e si capisce anche nel momento in cui arrivano in questa casa, perché arrivano davanti a questa villa, una villa un po' da come l'ha descritta, mi sembra una villa in stile Liberty, una bella villa che però ha avuto i suoi anni migliori tempo fa, quindi in rovina, che sembra disabitata, infatti iniziano quasi a chiedersi se hanno sbagliato casa. Quindi non sono neanche sicuri che quello sia il posto giusto. Si sono anche persi, più volte, diciamo che hanno avuto qualche difficoltà a trovarla questa casa qua, se non fosse che era molto alta, quindi la vedevi in lontananza, e quindi hanno un po' visto la cima, come se si vedesse la Tour Eiffel mentre arrivi in centro a Parigi, e l'hanno raggiunta seguendo la cima della casa, senza essere neanche sicuri che fosse la casa giusta. Infatti il dubbio rimane, rimane perché arrivano lì e lo zio non c'è. Bussano, suonano, di tutto fanno, qualunque casino, un tifo da stadio, però lo zio non esce, non si sa dove sia. E allora i genitori cosa faranno, secondo voi? Quando vi vedete che sono così è perché vi sto per dire una cosa oltraggiosa, e della quale non sono per niente contento. Vuoi scoprire tanti altri segreti sui piccoli brividi? Clicca il link che trovi in descrizione per esplorare la mia lunga playlist con tante altre curiosità, esperimenti e videogiochi legati al mondo dei piccoli brividi. Clicca il link che trovi qui sotto al video, ti aspetto. I genitori, vedendo che lo zio non compare, esso non si manifesta, hanno la splendida idea di lasciare i gemelli da soli davanti all'ingresso di questa casa, che forse è la casa giusta, ma non si assicuri, perché sennò loro perdono l'aereo, e perché sennò la mamma non può andare a fare shopping da Christian Dior prima di prendere l'aereo. Non vorrete che succeda. E quindi lasciano i bambini lì da soli, i dodici anni da soli davanti all'ingresso, e dicono, vabbè, quando compare lo zio, che forse sarà andato fuori a fare un giretto nella foresta spettrale, quando torna fateci uno squillo, chiamateci e diteci, tutto bene, ok, grazie, ciao, e niente, loro vanno via. E questi qua restano, eh? Qua da soli, beh, da soli, c'è anche un cane, un cagnolone, che si sono portati dietro, un po' per fargli compagnia, insomma, e che si chiama Bellamy, Bellamy, un cane di grossa taglia, bello, giocherellone, amichevole, che però qua sta dando qualche segno di incertezza, non è molto felice di star qua, quindi, insomma, sta intuendo, intuisce che c'è qualcosa che non va, e allora anche i due, i due gemelli, vedendo il cane che si comporta male, e che si comporta in modo strano, si fanno qualche domanda, oltretutto lo zio non si vede. Ad un certo punto, però, c'è uno dei due gemelli, che non vi ho ancora detto come si chiamano, giusto? Si chiamano Billy e Betty. Billy, che è leggermente più giovane di 10, minuti più giovane di Betty, perché sono due gemelli, però lui è nato leggermente dopo, e quindi Betty si atteggia da persona adulta, più grande di lui, insomma. Billy, però, decide di provare ad aprire la maniglia, e la porta si apre. Quindi, in effetti, potevano farlo fin da subito, però sono stati dei galantuomini, hanno aspettato, però dopo hanno controllato, e la porta si apriva. Quindi sono entrati, casa vecchia, antica, piena di polvere, sembra disabitata, e anche abbastanza spoglia per adesso, perché sapevano che il loro zio era un amante dei libri, quindi dovrebbe aver avuto una casa ricca di libri. Però in quella stanza lì, nell'ingresso, nel salone di rappresentanza, non c'era quasi niente, c'era un soffitto altissimo, che in effetti, anni fa, piccola parentesi, le case delle persone ricche, si capivano, cioè venivano, diciamo, riconosciute, dal fatto che c'erano i soffitti molto alti, e tanti bagni. Può far ridere, però ancora adesso, la ricchezza di una famiglia, all'antica, è anche rappresentata dai soffitti alti, e dalla quantità di bagni in quella casa. Quindi a quanto pare questa casa aveva anche molti bagni, non lo so, non si parla di bagni, che domanda è. Comunque, entrano e, a un certo punto, si trovano una persona che corre verso di loro, dalle tenebre che compare, ti fa prendere anche un po' un colpo, perché viene scritto bene, devo dirvi, questo clima tranquillo, all'improvviso arriva una persona di corsa, dalle tenebre sbucca e te lo ritrovi, a dieci centimetri dalla faccia, e a quanto pare, questo qui è il famoso zio Wendell. Questo zio, li ha finalmente visti, si scusa con loro, perché era subretro a fare dei lavori, mi chiedo come abbia fatto a non sentirli, perché di fracasso ne hanno fatto molto, arriva e dice, oh, eccovi qua. Però, gli dice, siete arrivati in un momento un po' spiacevole, mi dispiace per voi, e gli spiega, che non trova più in casa, un libro che doveva assolutamente proteggere, a tutti i costi, e la sua famiglia, proteggeva questo libro da secoli, solo che questo libro è stato perso, non lo trova più in casa, e allora chiede, ai due gemelli, di aiutarlo nella ricerca, voi direte, vabbè, può essere il modo per pulire un po' casa, e anche per scoprirla, per girare un po' in casa, perché il libro sarà in casa, no? Invece no. Invece no, perché lo zio dice, questo libro mi è stato rubato, ne sono certo, da un ladro collezionista, che vuole prendere questi libri, e rischia anche di aprire questo libro, che, essendo il libro più spaventoso di sempre, non deve assolutamente essere aperto, perché è un po' come il vaso di Pandora, se lo apri, tutti i mali del mondo escono, e creano un danno estremo all'umanità, quindi se questo libro cade in mano sbagliata, che potrebbe essere la mano di questo presunto ladro, potrebbero accadere guai molto grossi, allora, dove devono rincorrere il famoso ladro? Pensate un attimo, indovinate, indovinate, nella foresta imprevedibile, quindi la mattina dopo, dopo aver fatto una bella colazione, vanno nella foresta imprevedibile, lasciando però il cane a casa, poteva servire, non lo so, nel film di Harry Potter, loro vanno nella foresta poibita, con anche il cane, non lo so, poteva essere d'aiuto, contro i liocorni, gli unicorni, non lo so, se ci sono unicorni anche qua, chi lo sa, fatto sta che in questa foresta lo zio dice che ci sono creature pericolosissime, perché è una foresta mai toccata da mano umana, non ci sono mai entrati esseri umani, e stranamente in questi due giorni ci entrano 12.000 persone all'improvviso, vabbè, a parte questo, non ci sono mai state persone dentro questa foresta, quindi gli animali si sono evoluti in maniera diversa, sono rimasti dinosauri, forse, ci sono degli insetti grossi così, ci sono cose mai viste, è un po' una foresta incantata possiamo dire, e loro ci entrano, due bimbi praticamente, lo zio li porta in questa foresta, senza neanche armi, lui si porta un macete e basta, e a loro non dà nulla, nulla, proprio vanno in un modo, con così tanta facilità, che ti viene da dire, ma questo zio è poco furbo, li sta portando davanti a un pericolo estremo, e vedrete che ci sarà un motivo, ci sarà un motivo, in questa foresta a un certo punto, a parte il fatto che incontrano animali incredibili, proprio delle, cos'erano? Pipistrelli con teste umane, orsi, ballerini, che cadono dagli alberi, come albicocche, cose meravigliose, è una foresta fantastica, allora arrivano, e si perdono in questa foresta, i due gemelli, cascano, ruzzolano, incontrano l'orso, che gli balza addosso, balza addosso a Bilni in realtà, ma questi sono dettagli, e a un certo punto, scoprono di essere da soli, lo zio deve essere andato avanti, senza accorgersi del fatto, che li aveva dimenticati indietro, quindi ho uno zio, che non è tanto brillo, non è celle, questo zio non è celle, allora, che decidono di fare? A questo punto, di tornare a casa, di cercare di tornare a casa, perché dello zio non c'è traccia, la foresta è pericolosissima, più ancora del previsto, quindi devono tornare assolutamente, sui loro passi, per restare vivi, lo zio, in realtà hanno paura, che gli sia successo qualcosa di brutto, perché sentono un urlo in lontananza, una persona che urla, però non identificano bene, che sia questa persona, però decidono di tornare a casa, hanno una grossa difficoltà, nel tornare a casa, grossa, perché la via, era praticamente, irrintracciabile, tra l'altro stava anche calando la notte, dopo tante peripezzi, riescono finalmente a ritrovare la casa, ma c'è una cosa, che non vi ho ancora detto, vicino alla casa, c'erano dei capanni, uno di quelli, era per il cane, per Bellami, però nell'altro, si sentivano dei rumori, molto strani, a volte anche umani, però lo zio gli aveva detto, per coprirsi un po' le spalle, che c'era dentro, una famosa zanzara, succhia sangue, pericolosissima, quindi loro non avrebbero dovuto, aprire quel capannone, per nessuna ragione al mondo, però qua c'è qualcosa, che non quadra, perché sentono, delle grida umane, dentro questo capannone, allora, Betty decide di aprirlo, e dentro cosa ci trovano? Lo zio Wendel, questo è il primo spoiler, adesso vi avviserò, quando vi farò gli altri, però devo dirli, perché se vogliamo analizzare la storia, dobbiamo analizzare anche questi dettagli, e quindi gli spoiler, in questo caso, non riesco ad evitarli, questo è il primo, trovano lo zio Wendel, ma non è quello zio di prima, è il loro vero zio, cui mi ricorda il film The Visit, chi l'ha visto sa di cosa parlo, quindi una persona che si è spacciata per il loro zio, in realtà era quello il ladro, che stava cercando il libro, quindi una volta che sono arrivati i due gemelli, lui era impreparato, sarà anche per quello che li ha fatti aspettare fuori, stava pensando un po' a cosa fare, si è finto lo zio Wendel, e insieme a un assistente, una ragazza, che loro pensano sia la figlia, questa ragazza, per adesso non compare molto, va anche lei nei boschi, però quando dice di essere la figlia, noi ci crediamo, sembra credibile come storia, invece no, è un assistente, loro due sono due ladri, questo presunto zio e la sua collega Jesse, mi pare che si chiami Jesse se ben ricordo, il loro vero zio era chiuso in quel capannone da tre giorni, senza mangiare, infatti lo portano in casa, si fa una scorpacciata di tutto quello che c'era, perché era molto affaticato, e a questo punto gli dice, quella persona mi ha rinchiuso, perché voleva cercare il libro, a tutti i costi in quella casa, e voleva trovarlo, però non sapeva dov'era, in realtà il libro, mostra ai ragazzini dov'è, è nella cucina, lo ha messo in mezzo ai libri di cucina, perché lui ha detto, ha pensato, tenendolo in vista, è il modo migliore, per non farlo trovare ai ladri, un libro nero, messo in mezzo agli antipali, libri di antipasti, libri culinari, però mentre lo tira fuori, ecco, che dietro compare, il falso zio, sembra il mondo di Coraline, con la madre e l'altra madre, ecco, compare l'altro zio, e il falso zio ha con sé anche l'assistente, che stavolta è munita di lanciafiamme, ed è pronta ad incenerire tutto, a meno che loro non gli danno subito il libro nero, che è su quello scaffale in cucina, allora lo zio Wendel, il vero zio Wendel, non ha altra scelta che darglielo, loro vanno via, però è qua, che rivela ai due piccoli, che non era il libro vero, perché lui sentiva, che il ladro era nei paraggi, e allora si è inventato che questo libro nero in cucina, fosse il libro spaventoso, invece non lo era, così diciamo lo ha messo su un binario sbagliato, possiamo dire, a questo punto li ha portati a vedere il vero libro, ed era in cantina, giù da basso, in un seminterrato, in un secondo seminterrato, dovevano scendere giù nel seminterrato, poi c'era un'altra porticina, che li ha portati ancora più giù, questa cosa mi è piaciuta molto, mi ha ricordato un pochino le backrooms, molto bella come descrizione, e qua, ecco che c'è una cassaforte, beh, devono far spostare il muro, che solamente lo zio sa come fare, con una specie di codice, fa aprire, questa finta muratura, compare la cassaforte, ma ecco che ricompare, il finto zio, io dico, ma voi siete scemi, ma stai attento, controlla la porta che sia chiusa a chiave, non far entrargli qua, questa è una casa, è una open house, la gente entra a caso, sono qui, ma non ti sarai accorto che se ne sono andati loro, prima di portare i tuoi ragazzini a vedere, dove era il vero libro pericolosissimo, no, loro sono andati, e quanto pare, li hanno seguiti, questi due ladri, senza farsi notare, fino a quel momento lì, benché gli stanzini fossero piccoli così, le scale fossero scricchiolanti, penso che io me ne sarei accorto, se ci fosse stata gente alle mie spalle, però vabbè, diamo il beneficio del dubbio, li trovano, e a questo punto, il ladro dice allo zio Wendel, apri la cassaforte, se no, facciamo, un bel concerto di fiamme, e bruciamo tutto, allora lo zio apre la cassaforte, ma è vuota, secondo spoiler più o meno, è vuota, e lo zio dice, guardate, in realtà è una bugia, il libro non esiste, me lo sono inventato per diventare famoso, in realtà non esiste nessun libro spaventoso, e qua noi, il lettore dice, e beh, ha senso, mi pareva una storia un po' strana, un libro spaventoso che non puoi leggere, un po' fantascienza, però vabbè, il libro non esiste, ma allora, che succede? Siamo solamente a metà libro? Allora il ladro si arrabbia veramente tanto, e li chiude nella cassaforte, lo zio e i suoi due nipotini li chiude, perché non è convinto, che non esista veramente il libro, lui è convinto che lo zio, il vero zio Wendel, stia mentendo, in realtà è convinto che il libro esista, e lo vuole trovare assolutamente, quindi li chiude in cassaforte, e torna su, ma dentro la cassaforte, lo zio ha un asso, nella manica, ha una chiave, e la usa per aprire la cassaforte dall'interno, e a questo punto loro escono dalla cassaforte, stanno molto attenti a non farsi vedere, a non farsi sentire, dai ladri, che sono di sopra al secondo piano, a cercare il libro, riescono ad uscire, e vogliono avventurarsi nella foresta, per stare al riparo, e per andare a trovare il vero libro, che a questo punto, il lettore scopre che il libro esiste veramente, torniamo a sapere che il libro esiste, e stavolta per davvero, però il libro non è in casa, è nella foresta, spero che mi stiate seguendo, perché è una storia in effetti un po' complicata, perché ci sono diversi colpi di scena, ma è anche il bello di questa storia, mentre stanno andando fuori dalla casa, però il nostro caro, Billy, ha uno sternuto, perché è un po' allergico, è un po' come me in primavera, un po' allergico, forse è primavera anche qua, non lo so, e mentre stanno per uscire, gli scappa uno sternuto fortissimo, tanto forte che viene sentito dai ladri che sono di sopra, ed iniziano a scendere per raggiungerli, e per catturare di nuovo, allora loro accelerano il passo, e si ficcano nella foresta, sono seguiti a ruota dai ladri, solo che c'è il cane lì fuori, che fortunatamente non è sempre solamente giocherellone, stavolta si rende conto del pericolo, e allora si precipita addosso ai ladri, per azzannarli e cercare di trattenerli, un po' ci riesce, quindi i nostri eroi, lo zio Wendell e i due Billy e Betty, riescono ad allontanarsi un pochino, però alla fine vengono scoperti dentro la foresta, solo che riescono di nuovo a scappare, stavolta in una caverna, in una caverna di una tarantola, una caverna abitata da una tarantola, grossissima, tre metri, uno dei famosi insetti, che si è sviluppato in maniera eccezionale, per via del fatto che la foresta, ok, non era stata scoperta, quindi gli insetti si sono evoluti in maniera diversa, entrano in questa caverna, scoprendo che è lì il vero rifugio segreto, nel quale c'è il libro più spaventoso di sempre, solo che nella caverna, mentre lo zio cerca di raggiungere il libro, loro due vengono, diciamo, intrappolati da questa famosa tarantola, che si è svegliata, enorme, e vuole qualcosa da mangiare. Allora loro gli danno qualche verme che hanno addosso, che gli è caduto addosso da una vicenda che è successa prima, e la tarantola sembra tranquillizzarsi, solo che poi ne arriva un'altra, è una caverna di coppia, arriva la tarantolessa, e ha fame anche lei. L'ultimo verme, fortunatamente, cade dalla testa di Billy, e diventa un oggetto, come dire, che vogliono entrambi le tarantole, quindi iniziano a fare una guerra tra di loro, per aggiudicarsi quest'ultimo boccone, e questo facilita i due gemelli nello scappare, solo che, solo che, mentre scappano, fuori dalla caverna, compare un'altra persona, una persona con i capelli rossicci, dell'età simile a quella del loro presunto zio Wendel. Perché dico presunto? Perché si scopre che adesso il vero zio è quest'altra nuova persona. Quindi lo zio di prima era un'altra, un altro falsario, un'altra persona che non era veramente lo zio. Infatti questo vero zio Wendel, l'altro altro zio Wendel, zio Wendel 3, la vendetta nello spazio, gli dice che quest'altra persona si chiama il collezionista, ed è un altro ladro. Infatti ha detto che in questo periodo stanno cercando di fregargli il libro, e è sembrato un'ottimo, diciamo, è sembrata un'ottima occasione fingersi lui per poter raggiare i gemelli e magari essere anche facilitati nel trovare il famoso libro. Quindi si scopre che questo è il vero zio. Allora loro scappano, però vogliono prendere il libro, perché adesso l'altro zio, il falso zio numero 2, sta cercando di prenderlo nella caverna. esce col libro e riesce però a sconfiggere momentaneamente il vero zio Wendel, perché gli tira il libro in faccia, la borsa in cui c'è il libro, il libro abbastanza pesante suppongo, lo zio cade per terra e questo qua riesce a scappare portandosi dietro i due gemelli Arnold, che non oppongono neanche tanta resistenza. Io infatti dico, potevate resistere un po' di più, fare fronte comune per andargli contro, invece no, scappano con lui. Dei volta gabbana, ma vabbè lasciamo perdere. Però il vero zio riesce a raggiungerli, perché grazie a un orso ballerino che cade da un albero, grazie a un altro strenuto di billi, questo orso ballerino attacca, per sbaglio, questo falso zio, il collezionista, quindi lo trattiene, lo riduce a brandelli, ma è ancora vivo, tranquilli, quindi il vero zio riesce ad arrivare e riesce a catturarlo. Quindi stavolta sembra che sia veramente finita. Bene, però arriva il giorno in cui tornano a casa e a casa i gemelli scoprono che nella loro valigia c'è il famoso libro più spaventoso di sempre. Lo zio ha voluto darlo a loro con un piccolo biglietto in cui dice questo libro è più al sicuro a casa vostra, perché ormai a casa mia non è più sicuro da quel che si è visto. Quindi i gemelli decidono di metterlo al sicuro nel modo più sicuro possibile, possiamo dire, solo che mentre spostano la valigia, la borsa, per prendere il libro e spostarlo nell'armadio, il libro casca e finisce sul letto. Ed è qui che i due gemelli iniziano a guardarlo in modo molto curioso. curioso. E detto questo, mi fermo, perché devo dirvi, questa storia qua non mi è dispiaciuta, l'ho trovata un po' a volte caotica, però niente male perché ci sono molti colpi di scena, tanti. Potrebbe essere una bella storia anche al cinema, potrebbe anche essere un film tranquillamente, perché le basi le ha per essere non un cortometraggio ma un vero e proprio film perché mi ha ricordato un po' The Visit, i famosi parenti finti e ho notato citazioni qua e là anche ad alcuni vecchi capitoli dei piccoli brividi. Allora, La Casa del Terrore potrebbe riferirsi anche al primissimo volume dei piccoli brividi che era però La Casa della Morte. Questa qua invece è The House of Shivers, La Casa dei Brividi, tradotta in italiano La Casa del Terrore. Vediamo un po' come sarà la serie io per adesso ho questi due, però questo qua non mi è dispiaciuto, dei bei colpi di scena, ci sono alcune cose, alcune piccole mancanze tipo il secondo zio finto come faceva ad avere la chiave per uscire dalla cassaforte, come faceva a sapere che la cassaforte era in quel posto introvabile sotto una parete, erano cose che dovevi essere il vero zio per saperle in teoria, no? E perché esisteva quella cassaforte se era vuota? Ci sono alcuni dubbi che non sono stati chiariti e il più importante è io speravo che venisse detto a un certo punto cosa contenesse quel libro lì. Almeno un piccolo accenno, invece è rimasto proprio il vaso di Pandora, è rimasto come un libro distopico che se lo apri rivela i mai del mondo ma non entra molto nello specifico come è nato quel libro, chi l'ha creato? È un po' come It, il libro di Stephen King in cui It precipita dallo spazio milioni di anni fa poteva esserci un piccolo capitolo qua dentro in cui spiegavano il libro perché questo libro qua poteva essere un pochino più alto e contenere un po' di background su questo famoso libro spaventoso e l'avrebbe reso veramente bello. Cioè la storia avrebbe veramente preso forma con delle basi solidissime invece per adesso la storia è bella però le ho trovato un po' i piedi di argilla. Non ho trovato una base così solida sulla quale strutturare il racconto ma se venisse ricreata tramite film ci sarebbe molto da lavorare secondo me. Quindi questo capitolo ve lo consiglio se volete che recensisca anche l'altro che ho voglio però vedere molti like qua sotto deve piacervi questo così io poi farò la continuazione della saga della nuova saga dei piccoli brevili fatemi sapere cosa ne pensate vi lascio qua un altro video sui piccoli brevili molto curioso e qua sotto c'è anche la playlist con tutte le altre recensioni vi aspetto al prossimo video grazie ciao